cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro sentencian e quest'oggi voglio iniziare una nuova serie di trasmissioni dedicate alla meditazione oggi parleremo dell'introduzione sommaria alla legge di causa ed effetto detto altrimenti in sanscrito karma basilarmente esistono tre modalità di accumulazione del karma accumulazione con il corpo con la parola e con la mente per ciò che riguarda il karma fisico devono esistere quattro condizioni perché possa maturare uno il corpo che viene considerato quale base operante due il pensiero tre l'azione quattro il compiersi dell'azione il karma ai fini della maggiore o minore maturazione dell'effetto può risultare essere a accumulato e compiuto b accumulato e non compiuto c non accumulato e compiuto per esempio e rispettivamente alle precedenti modalità a desiderare di uccidere ed uccidere effettivamente b desiderare di uccidere ma non farlo c uccidere senza intenzione o perché costretti si distinguono inoltre un karma proiettante o introduttore in quanto introduce la rinascita un karma determinante che crea le condizioni nelle quali si svolgerà l'esistenza anche in questo caso esistono più combinazioni karma introduttore e determinante virtuosi che daranno luogo ad esempio a una nascita di tipo umano piacevole introduttore determinante non virtuosi che daranno luogo ad una rinascita animale spiacevole introduttore virtuoso e determinante non virtuoso che daranno luogo ad una rinascita umana non provvista di tutte o di parte delle condizioni circostanziali favorevoli alla predica del dharma introduttore non virtuoso e determinante virtuoso che daranno luogo ad una rinascita animale piacevole quale quella di un animale da appartamento vi è una ulteriore quadripartizione dell'esito karmico che si riferisce principalmente alla similarità con l'azione compiuta si tratti di un'azione virtuosa o di un'azione non virtuosa prendiamo come esempio l'azione non virtuosa estremamente negativa dell'ucidere avremmo 1 l'effetto principale la rinascita in uno stato sfavorevole di esistenza 2 l'effetto simile alla causa in una futura rinascita si verrà uccisi o si vedranno uccise le persone più prossime 3 l'effetto simile all'azione si mantendrà la tendenza ad uccidere ancora nelle vite future moltiplicando così il karma negativo 4 l'effetto sull'ambiente seppure verrà ottenuta una rinascita in uno dei tre reami superiori esseri umani semi dei mondani o dei mondani ci si troverà in un ambiente carico di tensioni violente il karma viene infine incrementato dalla frequenza e regolarità con le quali viene compiuta una determinata azione nonché dall'intensità della motivazione ad essa relativa cari amiche ed amici questo è stato tutto per adesso riguardo al karma vi ho letto una breve introduzione sommaria alla legge di causa ed effetto detto altrimenti karma vi saluto come sempre il vostro santo in chan continuate a seguirmi grazie dell'ascolto e non dimenticate di guardarmi in youtube arrivederci e grazie